Grazie, grazie davvero. Se vuoi, se preferisci muoviti... No, no, ma va benissimo. Allora, ti ringrazio anche di questo spunto, perché io credo che qualunque ragionamento serio sul tema dell'artificial intelligence del lavoro debba partire da una consapevolezza di dove siamo e di chi siamo. E non c'è dubbio che a livello internazionale ci sia un crescente livello di ansietudine per quanto riguarda l'impatto sul lavoro e sui lavoratori dell'artificial intelligence. Sono tanti gli studi che stanno uscendo, che sono usciti negli ultimi mesi e danno tutti il senso di una grande ondata di cambiamento che sta per investire il lavoro. Viene uscito uno soltanto, ad esempio McKinsey, stima che circa il 30% delle ore lavorate possano essere rimpiazzate, sostituite dall'artificial intelligence. Quindi un'onda di grande cambiamento sicuramente che sta investendo il mercato del lavoro. Quando ragioniamo sul nostro paese dobbiamo chiederci ma questa grande onda di cambiamento, che paese trova? E non dobbiamo dimenticarci chi siamo. Quindi sono molto d'accordo con questa impostazione di cui parlava Ferruccio De Bortoli. In realtà noi dobbiamo essere consapevoli che siamo un paese vecchio con un grande problema demografico da affrontare. 5 milioni di italiani meno e vedremo poi l'impatto sui lavoratori perché c'è un forte invecchiamento. Pochi giovani, giovani poco laureati, molto meno laureati che all'estero e di quelli laureati molto pochi sono quelli che sono laureati nelle materie, le cosiddette STEM, che sono oggi quelle più richieste. Abbiamo poi un problema tra i lavoratori e i cittadini di scarse competenze digitali, di digital divide e quindi anche qui dobbiamo capire quanto accessibili saranno i nuovi strumenti rispetto all'impiegabilità dei lavoratori. E infine un paese poco attrattivo. Cioè noi abbiamo non solo un problema demografico ma abbiamo un problema di emigrazione qualificata. siamo scarsamente attrattivi in entrata e invece i nostri tendono sempre di più a uscire soprattutto i nostri laureati ad alta qualificazione. Quindi una bomba demografica potenzialmente rispetto alla quale evidentemente dobbiamo partire dal dire ma quali sono i nostri veri problemi? E rispetto a questo come l'artificial intelligence potrebbe avere un impatto nei prossimi mesi, anni. e evidentemente due sono le grandi patologie che dobbiamo affrontare. La prima è quella del talent shortage. In Italia il 42% delle aziende prevede una crescita, vorrebbe crescere ma l'88% ci dice che non riuscirà a crescere perché non trova personale qualificato, non trova competenze qualificate. E quali sono i motivi? Vedete, i motivi sono due. Uno, se volete, quantitativo cioè uno skill mismatch non si trovano le competenze hard che servono per i lavori che bisogna proporre ma anche non si trovano le competenze soft quello che è in crescita rispetto agli anni precedenti vi sto presentando dati nuovissimi del osservatorio HR Innovation Practice è che sempre più poi c'è un problema di attrattività cioè anche quando si trovano i candidati giusti poi cresce il numero dei rifiuti delle proposte di lavoro e ancora più pericoloso cresce la percentuale di candidati che una volta pochi mesi dall'assunzione decidono di dare le dimissioni il 17% ecco questo è un problema è un problema davvero serio ma non basta anche tra i lavoratori attualmente all'interno dell'organizzazione continua a crescere il cosiddetto fenomeno della Great Resignation non è soltanto il numero delle dimissioni ma ciò che è significativo che sono stabili intorno all'11% ciò che è molto significativo è l'intenzione di cambiare lavoro in totale stiamo parlando di un numero importante quasi uno su due il 42% e se andiamo a vedere cosa succede tra le nuove generazioni tra la generazione Z beh qui parliamo di un preoccupante 65% quindi il 65% dei giovani o appena ha cambiato lavoro o sta cercando attivamente di cambiarlo e quali sono i motivi di questa scarsa capacità di attrazione di questo gap tra ciò che si cerca e ciò che le aziende riescono a offrire beh quest'anno la principale attesa che porta le persone a cambiare a cercare di cambiare è la ricerca di uno star bene le persone cambiano perché non stanno bene in azienda addirittura quest'anno è questa motivazione superiore alla ricerca pur importante nel nostro paese di condizioni migliori in termini di retribuzione opportunità di carriera quindi questa è la situazione talent shortage e scarsa attrattività allora possiamo davvero preoccuparci di quella che sarà l'impatto sull'occupazione dell'artificial intelligence dobbiamo vederla come potenziale opportunità queste sono stime fatte dal nostro osservatorio del Politecnico di Milano sull'artificial intelligence si stima che l'artificial intelligence e la nuova automazione in generale possa portare a 3,8 milioni di posti di lavoro equivalenti risparmiati tra virgolette grazie alla produttività dell'innovazione ebbene questi 3,8 milioni di posti di lavoro non bastano neanche a compensare lo squilibrio tra domande e offerta di posti di lavoro legati al fattore demografico quindi grazie all'artificial intelligence questo grandissimo problema di gap tra domande e offerta potrà essere solo in parte recuperato cosa stanno facendo le imprese cosa pensano i lavoratori le imprese stanno cominciando a sperimentare stanno cercando innanzitutto di trovare esperti che non riescono a trovare sul mercato del lavoro e quindi si comincia sempre più a cercare di formarli all'interno si cerca di formare competenze specialistiche abbiamo parlato assai dei prompt engineer o di altre figure di questo tipo più che in passato si sta comprendendo che c'è tutto un insieme di competenze trasversali che bisogna andare oggi a coltivare a cominciare dal pensiero critico dalla capacità di interagire intelligentemente con l'intelligenza artificiale un decision making consapevole basato su informazioni e dati e una capacità che possiamo chiamare etica digitale la capacità di comprendere l'impatto di quelle che sono le applicazioni possibili bias introdotti attraverso l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale le sperimentazioni oggi sono ancora sperimentazioni piuttosto sporadiche solo un 12% delle organizzazioni ha delle linee guida e una strategia chiara e sono sperimentazioni fatte un po' in varie aree di business una delle più importanti è sicuramente proprio l'area delle risorse umane quindi in particolare per il recruiting e per la formazione il 43% delle grandi aziende in Italia sta sperimentando l'utilizzo di intelligenza artificiale che cosa pensano di ottenere le imprese qui c'è un problema a mio parere molto importante ecco la maggior parte delle imprese pensano attraverso l'artificial intelligence di fare efficienza di ridurre i posti di lavoro di usare il dividendo di produttività per migliorare i proventi questo è un grandissimo rischio questo è un grandissimo rischio perché nel medio termine un'ottica di breve di questo tipo rischia di bruciare non solo impiegabilità ma anche di bruciare capacità di distintività di vantaggio competitivo da parte delle imprese questo potremmo sicuramente discuterlo anche attraverso dei casi specifici ciò che oggi limita la capacità delle imprese di introdurre l'intelligenza artificiale di fare sperimentazione soprattutto l'assenza di competenze e cultura e in molti casi l'assenza di una strategia solo il 17% delle organizzazioni e parliamo di grandi imprese ha effettuato un'analisi di quello che sarà l'impatto dell'artificial intelligence sulla propria organizzazione e sui propri ruoli le persone cosa pensano le persone in molti casi sono lasciate sole a sperimentare questa è un'innovazione molto accessibile apparentemente demografica cioè rispetto ad altre tecnologie ha uno scarso digital divide e quindi le persone la stanno spesso sperimentata da soli lamentando l'assenza di supporto e di linee guida da parte delle imprese parliamo del 26% dei lavoratori ma se guardiamo ai giovani questo 26% la doppia diventa il 52% delle organizzazioni vorrebbero essere in qualche modo supportati ma molto spesso lamentano che le organizzazioni non li aiutano il 65% dei lavoratori vorrebbe una formazione che in realtà non riesce a ricevere quanto sono preoccupati o quanto sono ottimisti diciamo che la torta si divide abbastanza in due parti e questo è coerente ai risultati che abbiamo appena visto prevalgono un po' le persone preoccupate perché pensano che l'artificial intelligence possa portare una precarizzazione a una perdita di vantaggio competitivo a uno spiazzamento della propria esperienza hanno ragione loro o hanno ragione coloro che dicono no in realtà credo che l'artificial intelligence porterà un miglioramento delle mie capacità della mia capacità di apprendere ecco questo molto dipenderà da come da come le aziende saranno capaci di utilizzare questo questo grande strumento e questo lo vediamo ad esempio sui benefici anche chi sta sperimentando ad esempio pensa che il beneficio legato alla produttività e l'efficienza sia sì importante ma meno importante rispetto a quanto pensa il campione complessivo rispetto ad altri come il miglioramento della capacità di apprendimento lo stimolo dell'innovazione il miglioramento della soddisfazione del benessere quindi sicuramente chi applica capisce più in profondità quali sono i benefici potenziali quindi chiudo dicendo quali sono le opportunità che l'artificial intelligence ci pone soprattutto quali sono in un paese come come l'Italia beh l'artificial intelligence se usato in modo non solo etico ma anche con una giusta visione di medio lungo periodo ci deve portare a utilizzare l'artificial intelligence per affrontare le due grandi patologie il talent shortage da una parte pensando alla vera e propria bomba demografica che noi dobbiamo affrontare e dall'altra parte la capacità di ripensare di riprogettare le mansioni di ripensare il lavoro in modo da produrre dei lavori delle mansioni che siano più attrattive più sostenibili più capaci anche di ingaggiare nel lungo periodo lavoratori che dovranno rimanere attivi e impiegabili sul mercato del lavoro tutto questo evidentemente richiede uno sforzo di sistema uno sforzo alle persone in prima istanza ma le organizzazioni che devono fare network che devono pensare a una propria people strategy lungo periodo infine al paese che deve darsi una strategia per consentire alle organizzazioni alle persone di far fronte a questa grande ondata di innovazione grazie 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 Grazie.